A partire dall'Hour Night, la sua azienda recherà il sigillo di qualità Best of Swiss Gastro. E poi, come procede? Rimanga Best of con un marketing sostenibile e un'acquisizione efficace di clienti. Con le sue schede di valutazione, lei innescherà un sistema a ruota libera. I suoi ospiti potranno continuare a valutarla online. In questo modo, lei riceverà in qualsiasi momento un feedback autentico e aggiornato. E sarà reperibile in Internet in tutta facilità. Nei risultati di ricerca di Google o nei social media come Facebook. Ringrazi i suoi ospiti con un nuovo buono per aver effettuato la valutazione. Il tutto in modo completamente automatizzato. In quanto Best of Member, ogni anno lei sarà premiato, di nuovo, per la sua qualità. Se gli ospiti saranno adeguatamente soddisfatti, le sarà assegnato il premio Eccellente. Un risultato davvero eccellente. Lei è tra i migliori. Continui ad eccellere. Distribuisca ora le schede di valutazione.